Oggi vi racconto una storia. La storia di un imprenditore, l'Arcese. Questo grande imprenditore è molto discusso. Allora, parecchi anni fa io facevo parte del Rotary. Per chi non lo sapesse, il Rotary è un gruppo di persone di varie estrazioni, dal falegname all'industriale, all'elettricista, al farmacista, alle persone che hanno delle attività industriali, commerciali, artigianali. È nata in America. Rotary è una ruota. In questa ruota ci stanno intorno queste persone. Queste persone si trovano una volta alla settimana. Che cos'era lo scopo di questo Rotary? Lo scopo del Rotary, ed è tuttora, di aggiornare le persone delle varie categorie su degli argomenti che sono nuovi. Difatti, ogni lunedì c'è questa riunione e in questa riunione vengono invitati delle persone che possono essere quello che ha inventato i telefonini, quello che ha inventato i computer, eccetera, eccetera, eccetera. Presidente della regione, persone che si occupano di politica, di età, e il Rotary in questa maniera viene a informare i propri soci di quelle che sono le modernità e quindi cose che possono poi trasferire nelle loro aziende. Io ho fatto parte per parecchi anni da Rotary perché rappresentavo i farmacisti del Trentino. A Riva venne un bel giorno un certo Armici, che era il direttore della cartiera di Riva. queste cartiere di Riva. Queste cartiere erano proprietà di un certo Legrenzi, proprietario delle artigrafiche di Bergamo. Fatta questa premessa, ci troviamo con l'Armici a tavola, uno in fianco all'altro. Io sono farmacista, io sono l'Armici, vengo da Frosinone, adico da Frosinone, sì, c'era giù Frosinone perché in provincia di Frosinone sono nate molte cartiere, un cognome che non mi ricordo, che era questo capo delle cartiere, io sono stato in questa cartiera, eccetera, eccetera. Adico, piacere, eccetera, eccetera, ci siamo parlati. La seconda volta abbiamo parlato sempre di questa sua trasmigrazione e mi sono portato via, è stato dietro anche un autista che c'era laggiù con cui ho passato anche delle serate assieme perché è una persona molto gioviale, un tipo un po' particolare, me lo sono portato dietro. Ah, io ci ho portato via, sì, è chiesto, che c'è, Arcese, ah, fai cosa fanno? Ah, c'è quello, fa il camionista, dice lui, lavora per una ditta di cui mi sfugge il nome di Frosinone e trasportava la carta, credo, dalle cartiere, insomma ce l'è portato su con lui e lui aveva un camion, che non sono sicuro, ma era sempre per questa ditta di Frosinone e faceva dei trasporti della carta per le cartiere di Riva, ma nel parlare, alle volte siamo venuti a parlare di argomenti che riguardavano i trasporti nell'ambito del Rotary. Uno degli argomenti era se era meglio che le ditte avessero il camion in proprio e lo gestivano gli autisti dipendenti o se era meglio fargli comprare e sovvenzionare l'autista che si comprasse il camion e se lo gestisse lui è morta lì. E abbiamo parlato del più del meno. In quell'occasione con l'Armici è venuta fuori che mi ha raccontato un po' la storia di questo arcese. Arcese che ripeto, ma mi ha raccontato qualcosa di particolare della famiglia, perché l'Arcese che voi conoscete ha 11 fratelli dese e un'on dese. Viene da una famiglia di persone molto semplici, un nonno contadino che lui andava a aiutare in campagna. I genitori che avevano un piccolo negozio di commercio, ma che avevano una mano a questo nonno che era il... Non entro nei cognatti, perché io faccio sempre confusioni tra cognatti, generi, suoceri, mi fa una grande confusione. Allora mi racconta di questo arcese e mi racconta delle cose molto simpatiche, insomma, che questo ragazzo già giovane, insomma, era uno che si dava da fare ed era un po' pur giovane, un po' il riferimento della madre, perché comunque, comunque, è venuto, arriva come operaio. E di questo arcese mi sento in questo momento di esserne un po' il difensore. Certo che l'arcese non ha bisogno che lo difenda Altamanini, evidentemente, ma quando si parla con le persone qui ad Arco, magari nella zona del straforio, e poi l'arcese è come un approfittatore che se ne ha approfittato, che ha i contributi, che ha aiutato alla politica, esode sto passo, insomma. Ma la realtà è un'altra, perché vedete, questo arcese quando era ragazzo, quando era ragazzo, una volta, ha aiutato il suo nonno, anzi il suo padre, per la verità, a portare delle mucche al mercato per vendere, per la precisione, sei mucche. Davanti che era il papa, e l'edrio che era l'arcese, dieci anni, piccolotto, tondotto, robusto. E portano queste mucche per vendere, se non che una delle mucche, quella davanti, è un po' impassita, e insomma deve aver dato una scornata, o deve aver ferito un po' il padre, il quale, niente di grave, ma insomma, perdeva sangue, è andato a farsi medicare. Che cosa avreste fatto voi ragazzini, dieci anni, con sei mucche? Le ha portate al mercato, lui solo, non solo le ha portate al mercato, le ha anche vendute, e le torna a casa con i soldi. Allora, a dieci anni, ha già dimostrato che era uno che sapeva cosa fare. Vedete, l'arcese, in certe cose, lo potrei un po' paragonare, ha due detti del Tamanini, Coppa, Pela e Magna, e chi anticipa segna gol. Perché l'arcese è stato un uomo che ha anticipato, un uomo che ha fatto delle cose incredibili, un uomo che da un camion è partito a un'infinità di camion, ma non il solito camion, è uno che ha portato la tecnologia nell'impresa dei camion, è uno che non si è fermato nell'ambito di riva e coro, è uno che tutte queste sue attività di trasporto ha dato a queste attività delle innovazioni che sono uniche in Europa, se non nel mondo. Lui, stando seduto, sa dove è in camion quanto il vacuno consuma di benzina, da dove che l'è. Perché? Perché c'è tutta una logistica. È un uomo che è andato nel mondo, non è fermo. Se voi andate in Polonia, se voi andate in Germania, se voi andate in Inghilterra, c'è l'arcese. Come ha fatto? Beh, evidentemente non ha fatto tutto lui da solo. Però, i collaboratori, chi è che li ha scelti? Io o l'arcese? Li ha scelti lui. E si è attorniato di persone valide, competenti, intelligenti, gente che chi anticipa segna gol, cari signori. E ha messo in piedi un'attività incredibile, tanto è vero che è diventato anche il capo, il presidente di tutti i trasportatori d'Italia. E c'è stato un periodo, anche in Europa, che ha avuto dei posti di responsabilità. Quindi è stato un uomo che ha avuto, con un grande limite, perché se voi parlate con l'arcese, è come quando mi parlo col dialetto, perché non è che l'ha dimenticato completamente il dialetto di Frosinone. Perché quando si parla con l'arcese, bisogna stare attenti, perché alle volte ci vorrebbe l'interprete. E così è. Allora, questo uomo che ha trasportato le sei mucche, ha dormito alle volte in cinque in un letto, perché erano undici figli, esode sto passo. E' uno che ha avuto la capacità di adoperare la sua intelligenza in una maniera avvenieristica. Ma, e si è fatta aiutare la politica, c'ha paio i soldi della politica, se no che era la politica, ha un conosso Midrardenne che si è adoperare della politica, e che sono falliti, sono andati a Remengo, che non sono stati capaci di fare nulla, anche se hanno avuto gli aiuti della politica. Evidentemente che l'Arcese, sapete, in Italia, è, narvia dritti, dritti, dritti sul binario. Vedete, io credo che all'Arcese, ho detto credo, siete testimoni, ho detto credo, credo che all'Arcese le cose si erano andate in questa maniera. E' uno che ha fatto calcoli, allora coppa, pela e magna, c'era da comprare una cosa, c'era da fare un'attività, bisogna farla subito. E' vero, forse Arcese alle volte può essere stato anche, come si disse a Montrentino, è un gran sacramento, perché qualche volta magari sia stato brusco, indubbiamente non avrà avuto magari dei rapporti particolari, ma era un efficiente ragazzi, è uno che la domenica, quando la gente riposa, andava con la sua macchina, non la mai girà con la Porsche, l'Arcese, con la BMW, andava a vedere i suoi depositi a Milano in giro, ragazzi, ma sapete, lo sapete, lo sapete, che è stato uno degli anteciniani della logistica, lo sapete che i rapporti che ha avuto con i clienti, e la cosa strabiliante è che io quando parlo con l'Arcese, faccio una parentesi, io non mi posso definire un amico dell'Arcese, perché non ho mai mangiato a casa sua, non sono stato, io sono stato amico dell'Arcese, in via indiretta, per questo Armici, che più volte stando, mi ha parlato e descritto di questo uomo, io però, ho conosciuto molto meglio, forse, la moglie, la moglie che è una donna molto particolare, senti che domandi, come mai la sposare l'Arcese? Ma fa pietà, Poretto, mi fei la pena, mi fei la pena, no, lei era innamorata, e se non c'era la Fiorella, ripeto, la Fiorella, l'Arcese, forse, sì, sì, forse, ma non credo, perché dietro gli uomini di valore, ragazzi miei, che è sempre detto una donna, consistente, donne serie, donne lavoratrici, donne che non gagrilli per la testa, donne che hanno aiutato, e non gagrilli per la testa, quando tornava a casa, ecco, che te torni sempre a casa, e se poi andare avanti, e come fai, e se non fai, beh, 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 è una donna che probabilmente l'ha aiutato, e quando aveva dei problemi e doveva fare delle scelte, è una donna che probabilmente era di sì, è meglio che te fai così, e l'ha aiutato, non l'ha garotto, eccetera, 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 è una donna valida, la Fiorella è una donna, io che conosco, forse conosco più la Fiorella per la verità, perché conoscevo la famiglia per via del mio lavoro, e l'Arcese lo conoscevo meno da quel lato lì, però io l'ho conosciuto meglio, meglio, attraverso le conoscenze di altri, chi ha avuto veramente bisogno e ha bussato la porta dell'Arcese non è mai uscito senza niente, di questo lo posso testimoniare, è un uomo che, certe robe, come si dice Montrentino, è il gran sacramento, insomma, perché l'è uno che insomma, l'è uno con cui ho avuto a che dire, perché quando mi ha buttato il capitello, mi ha demolito con tutte le scuse dell'universo, ma secondo il principio del cupo a Pella e Magna, e l'avrà detto al camionista, senti, fammi il piazzetto, vai fuori di strada, e pof, ti ha buttato il capitello, me lo immagino, e allora su quel capitello ci ha dato il sottoscritto, anche se lo conoscevo, e mi sono piazzato là, e da là è nato poi il famoso comitato capitelli che si dice è stato fatto da altri, ma non importa. Comitato capitelli, allora qui tutto il mal non viene per nuoccere, perché tutto sommato, se non butseva il capitello, non nasceva il comitato capitelli e non si sistemavano tutti gli altri capitelli che c'erano nella zona. Comunque, mi fa dolore quando vedo certi atteggiamenti di certi politici e di certe persone nei confronti dell'artese. Perché dovete sapere che lui ha aperto a Castelfranco Veneto che cosa? Tutta un'attività di alimentare di animali e anche credo di piante e di cavalli poi di cui parlerò. A Castelfranco Veneto dove perde porte nove dove chi? Un sindaco e Gadì De No eccetera eccetera e allora cosa ha fatto? Siccome Gadì De No è una Castelfranco Veneto e lì di Madonna e ha fatto quello che nessun altro sarebbe stato capace di fare a Castelfranco Veneto e i cavalli? Perché questo signore quando era ragazzino sapete cosa faceva? Andava sui cavalli senza la sella perché doveva andare nella campagna in giro e c'erano dei cavalli e lui li abituava a dare questi cavalli non dico che abbia fatto aiutate come si può dire allevatore di cavalli neanche addestratore grazie addestratore di cavalli comunque sui cavalli veniva senza sella senza sella a undici anni dodici anni questo arcese un bel giorno che torna a mente il cavallo a pelo lo chiamava cavalcare a pelo senza sella e chissà chi sarebbe stato capace di tutti i nostri arcensi qua di fare quello che ha fatto lui e di andare in America e diventare il primo allevatore di quel tipo di cavalli loro non italiani chi sarebbe stato capace di fare una quarta parte di quello che ha fatto lui è stato veramente un intuitore e soprattutto l'intuizione non basta perché anche a me ho molto di intuizione mi piaceria fare molto di cose però dal dire al fare che è demesso il mare si diceva mi pare allora è un uovo che quando veniva l'idea tac l'ha fatta coi cavalli è stata adesso cari miei in poco tempo che ho una mania delle galine mi non so cosa altra mania chi se cia paovida per tutto da me viene e mi porta le uova ogni tanto le uova e noi con le uova dell'arcese che poi tra l'altro gianca dei colori e ce n'è anche delle uova celesti perché gianca quelle celesti che fa l'uovo celeste come le fa l'uovo celeste non lo so sono caline e celestiali e allora quando mi porta le uova aveva sempre in mente quella storia che vi ho raccontato quando la giraffa l'elefante e la galina le nade dal padre eterno a lamentarsi e la galina per ultimo gli senti padre eterno non si è guardato a trovare la cortesia è vera ma che situazioni sono te due o te mi allarghi il buco o te fai pupì con le uova e quindi lui non è riuscito ancora a risolvere questo problema però in compenso gianca le uova celesti allora una persona così merita di essere alle volte trattato come quel porco parò l'arcese fa quel che vuole tanto lui il gancioldi fa quel che vuole e do di questo passo no non ce la merita non ce la merita perché un uomo che tutto sommato ha delle qualità che nessun altro ha carattere difficile eh parlare difficile allora io sfido chiunque a parlare come parla l'arcese a parlare il dialetto e far quel che fa l'arcese non ci si riesce nessuno nessuno perché se mi va con giro a parlare il dialetto in team e lui col suo ciocciaro ha fatto quello che ha fatto e allora ogni volta che parlate dell'arcese vi dovete ricordare anche di un'altra cosa perché l'arcese ha avuto in giuventù un'esperienza spaventosa i tedeschi gli hanno ucciso sotto i suoi occhi con un colpo alla nuca la sua nonno perché si era opposto una determinata cosa che volevano fare i tedeschi laggiù e quindi a 11 anni ha avuto questa visione che credo abbia influito enormemente su quello che è il suo modo di agire e di pensare perché un contatto così cruento e così forte con la fine di una vita soprattutto di una persona a cui si vuole molto bene non è una cosa da poco la guerra ha influito anche su di lui e molte volte io in queste trasmissioni vi ho citato la guerra perché anche sul sottoscritto è stato un male ma è stato anche un bene perché la guerra ha insegnato tante cose tanti sacrifici e tanto diremo tanta speranza e allora quando incontrate l'arcese e vi viene sulla bocca quel cosa quella voglia pensate al ragazzino che accompagnava le mucche e è andato a venderle al mercato e ha portato suo padre i soldi pensate a quel ragazzino che ha visto uccidere così il suo nonno pensate all'arcese che dormiva per un periodo di tempo quattro dell'ed matrimoniale pensate a questo arcese che tutto sommato dal nulla ha creato un impero io non voglio entrare nei particolari perché vi annoierei ma lui ha avuto a che fare con la Fiat ma no con l'ultimo scalzacane con come si chiama Romitti Romitti con Romitti lui ha avuto a che fare con i direttori generali dei ministeri lui andava dal ministro bussando la porta scavalcava tutti e arrivava dal ministro col suo ciocciaro lui è riuscito ad assorbire un'infinità di ditte a fare società ma una cosa è riuscito a fare ha tenuto la sua famiglia unita perché la sua azienda è un'azienda familiare e Arcese ha questo grande merito avrà pensato a fare un'impresa nel mondo ma la sua famiglia è la sua famiglia e io vi assicuro che la famiglia Arcese la famiglia è uno dei più belli esempi che ci possono essere su quella che è la famiglia alla prossima è un'impresa Grazie a tutti.